Con l'impennata dei casi covid registrata nelle scorse settimane, sono aumentati parallelamente anche i servizi di controllo disposti dalla questura della BAT per far rispettare le misure di contenimento dei contagi. Sotto la lente di ingrandimento della Polizia di Stato, le aree commerciali delle città, luoghi a maggior rischio di assembramenti ed in particolare bar, ristoranti e saleslot. Ed è proprio all'interno di una di queste, ad Andria, che gli agenti hanno sorpreso tre uomini in orario notturno, senza mascherina e intenti a giocare uno vicino all'altro, non rispettando neanche la distanza minima di sicurezza. Un'inosservanza già di per sé grave in tempi di pandemia, ma capire uno dei tre non era neanche l'unica. I poliziotti hanno scoperto infatti che uno degli avventori era un sorvegliato speciale, con l'obbligo quindi di rimanere in casa tra le 10 di sera e le 6 del mattino. La violazione è costata all'uomo una denuncia a piede libero per il mancato rispetto degli obblighi di sorveglianza. Tutti e tre dovranno inoltre pagare una multa salata per non aver indossato la mascherina protettiva. La posizione dell'addetto alla sala slot è invece tuttora sottoposta al baglio dell'ufficio Polizia Amministrativa e di Sicurezza.